con i cv ben ritrovati in un nuovo unboxing con questa faccina sorridente di amazon poiché oggi è arrivato un pacco direttamente dalle profondità marine questa è colpa del dottor lumis che mi ha estigato ovviamente e io istigo lui lui stiga me perché per voi è semplice siete iscritti alla chat telegram al canale telegram come il mio ma voi vedete le offerte potete aderire non aderire fate quello che volete se volete supportare noi i nostri canali ognuno fa quello che vuole solo che io e lui ci sentiamo anche ogni giorno quindi quando c'è un'offerta mi fa vedere la foto gliela faccio vedere a lui è un'istigazione continua ma andiamo a scoprire il contenuto di questo cofanetto che dovrebbe che dovrebbe essere bagnato con l'acqua dell'oceano ma adesso capirete perché la cerchiamo avete già visto qualcosa non avete visto niente accidenti spacco pure da tutto qua eccoci qua ovviamente mi ha instigato e mi sono preso uno dei miei film preferiti il mega cofanettazzo di das bot regia di wolfgang petersen un film mamma mia bellissimo un film stupendo che io ho sempre solo visto nella sua versione di rettorscat già dalla vhs se vi ricordate che era uscito in vhs in versione di rettorscat in dolby surround e con un nuovo doppiaggio italiano eccolo qui cofanettazzo ve lo dico già che oggi non si parla di audio italiano questo è il cofanetto che contiene ragazzi contiene la direttorscat del film la versione cinematografica tutto in blu ray aspettate la versione tv che dura ancora 100 minuti in più della versione direttorscat dura ancora di più poi ci sono due audio cd cioè due audio cd ci sono degli mp3 ho letto dentro che è il romanzo perché tratto da dei libri io non lo sapevo neanche con l'audiolibro però è tutto un audiolibro dura nove ore mi sembra ma è un audiolibro da ascoltare in tedesco ragazzi in tedesco c'è il cd con la colonna sonora booklet e un blu ray pieno di contenuti speciali ma diamo un'occhiatina veloce al cofanetto che se avete visto il canale del dottor lumis ci è rimasto un po male perché anche io avevo visto un unboxing doveva avere un effetto speciale la copertina del cofanetto però da cosa penso io è che era una tiratura limitata all'inizio appena era uscito sto cofanetto adesso hanno fatto solo la versione in cartone e molle non è cartone rigido vabbè quello che interessa me sono i dischi all'interno qua c'è il ben di dio per chi ama questo film ovviamente ragazzi ci sono solo i sottotitoli in inglese in tedesco ed è parlato in inglese e in tedesco e la serie tv mi sembra che solo in tedesco comunque diamo un'occhiata al fogliettino questo è tutto il ben di dio che c'è dentro giovanni dottor lumis può tradurre meglio di me alla grande tutto ciò audi 5.1 dtsh di master audio 2.0 e la serie tv sono curioso perché ha degli effetti sonori diversi è un mix diverso da quello director scat quindi sono anche curioso di vedere quello ma sono molto curioso di vederlo in versione televisiva sono sei puntate mi sembra perché non l'ho mai visto io così da sbotte cioè 100 minuti di scene che io non ho mai visto e devo guardarme le tutte diamo un'occhiata veloce al cofanetto vabbè intorno qua com'è niente aveva un bell'effetto e andatevi a vedere qualche altro unboxing perché aveva un bell'effetto il cofanetto quello limitato vabbè limitato alle prime uscite andiamo un po jürgen prochnow interprete anche fa il cattivo nel seme della folia che in questi giorni costa 6 euro il blu ray della follia ho messo il blu ray della follia il blu ray del seme della follia ho messo il link nel mio canale telegram e recuperate il seme della follia di john carpenter questo è l'interno c'ho proprio la voglia di rivedermelo in versione televisiva mamma mia che bel film se mi piacciono i film di guerra se vi piacciono anche i sottomarini io ne ho visti di film con i sottomarini ma sicuramente non li ho visti tutti però se volete vedere come assaporare poi è un film ok è un film non sarà mai come essere in un sottomarino durante la guerra però vi farà vi farà pensare molto da sbocce le stanze strette del sottomarino come vivevano insomma non è la versione da ridere come operazione sottoveste non è cosa operazione sottoveste la versione edulcorata che bello il sottomarino questo no qua c'è puzza di sudore e di morte in questa serie questo è il libricino che c'è all'interno diamo un'occhiatina veloce veloce ragazzi tanto è tutto in tedesco non so leggervi niente ragazzi è tutto in tedesco però meno male che ci sono i sottotitoli in inglese meno male che mi salvo almeno vedete sapere un pochino di inglese vi apre io non l'avrei mai comprato non sapessi un pochino di inglese non avrei mai comprato un cofanetto del genere me lo sarei perso perché lo aspetto in italia quando arriva una roba del genere dedicata da sbot quando arriverà mai quindi andiamo di estero ok qua c'è la di retro scat 208 minuti dts hd master audio 5.1 e 2.0 versione 1 85 ma io sapevo che il formato video originale era più largo poi c'è la versione cinematografica 149 sempre dts hd master audio 5.1 e basta la serie completa si in sei episodi formato allargato vedete perché mi sembra che il film forse in uno cioè le riprese fossero in 166 se non sbaglio comunque questa è la versione 16 noni piena quindi vedremo delle parti in più sopra e sotto rispetto alla versione di retro scat che penso che abbiate sempre visto tutti voi versione televisiva 308 minuti dura 100 minuti in più dell'altro però è divisa puntata quindi me lo spalmerò pian piano dts hd master audio 5.1 e 2.0 che è diverso da cosa ho letto dal mix di questo sono due mix diversi poi bonus material 58 minuti di commentario 39 22 45 13 10 9 e 6 minuti e qualche trailer poi c'è l'original ok la sound track originale e l'audio libro di 910 minuti diviso in 135 capitoli due cd pieni di mp3 il ragionier filini sa fa molto fantozzi leggerlo così e basta ok rimettiamo a posto il libricino chiudiamo mamma mia tanto ben di dio che bello non costa eccessivamente l'ho pagato 35 ragazzi sto cofanettone con tutta sta roba cioè c'è anche la colonna sonora quindi togliete gli 10 euro già solo di colonna sonora togliete 10 euro solo di quello però ripeto non c'è l'italiano ma se aspetto in italia di vedere la versione della serie televisiva tutto insieme in un cofanetto aspetta e spera ma ovviamente grazie a giovanni che mi ha fatto venire in mente questo adesso andiamo a scoprire un'altra cosa anzi questo lo spostiamo dove lo metto che qua non c'ho spazio c'è altro in questa scatolina sì c'è altro e vieni fuori adesso arriva ovviamente moreno ha visto che da amazon italiano costavano meno e mi sono preso anche le serie televisive che sono ambientate un anno dopo e riprendono altre storie io non ho letto i libri sono altre storie prese dal libro dell'autore scusatemi non mi ricordo chi l'ha scritto non lo sa fino all'altro fino a ieri che ho ordinato tutto io non sapevo neanche che il primo da sbotte di peterson era tratto da un libro io non lo sapevo c'è chi l'ha adorata questa serie c'è chi non l'ha adorata questa serie anche perché non è tutta ambientata in sottomarini non è tutta ambientata c'è la parte del sottomarino che si lega con spie comunque sempre seconda guerra mondiale c'è gli francesi gli inglesi infatti parlano in varie lingue tedesco inglese francese la base è la storia tedesca però c'è un mix di paesi internazionali e ero molto curioso di vederle da noi la passate sky la passate sky e se vedete qua qui non c'è scritto ma c'è anche qua sono due serie fatte sono state pensate anche in dolby atmos andiamo a scoprire io ho trovato a ragazzi cos'è 16 e 19 ho pagato questa la prima e la seconda e questa come potete vedere qui è la versione quattro dischi perché c'è un dvd dovrebbe essersi un dvd aggiuntivo con dietro le quinte extra eccetera 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 costa un pelo di più della versione semplice ma andiamo a spacchettare la prima stagione di complete erste staffel stafel giovanni spero di renderti orgoglioso parlare tedesco ok yes dolby atmos yes vedete diamo un'occhiata audio dolby atmos più true hd perché la traccia in cui tutti parlano la loro lingua cioè se un francese parla il francese se un inglese parla l'inglese è tutto mixato in dolby atmos la serie però completamente doppiata in tedesco cioè doppiate anche le parti francesi inglesi sono in 5.1 formato 2.0 sono stati riprese tutte e due con le arry alexa mini mi sembra quindi dovrebbe anche anche se non è 4k dovrebbe essere una gran bella immagine e però letto che il atmos è veramente cioè rende una serie televisiva una produzione così cinematografica io sono molto curioso però prima devo vedermi il primo anche se sono storie slegate ci tengo a vedermi prima tutta la serie di dust bot con l'originale che non ho mai visto e poi mi sparo piano piano queste due diamo un'occhiata all'interno fanettino qua ok non è rigido non è rigido carino carino io appena ho visto limited edition mi ci sono buttato quattro dischi e qua c'è il sì il dvd con gli extra c'è anche un booklet ovviamente tutto in tedesco ragazzi quindi non ci capirò niente però la curiosità era veramente veramente alta poi il l'ho preso esclusivamente perché c'era scritto dolby atmos quindi ci sono proprio cascato e ho già chiesto da noi in italiano non hanno fatto alcun mix dolby atmos quindi dovesse uscire in blu ray o in 4k o come vogliono non esiste audio dolby atmos in italiano e c'è solo qua in tedesco con le lingue mischiate dentro non esiste doppiaggio italiano in dolby atmos solo 5.1 spacchettiamo brevemente anche la seconda eccoci qua eccoci qua anche questo vedete quanti nel booklet il bonus dvd anche qui stessa storia di prima acqua c'è solo il dolby atmos non c'è la traccia doppiata e tutta in tedesco qua non c'è che poi io ho letto così ho tradotto una recensione tedesca poi magari la true hd parlano anche lì in francese io ho letto quello nella traduzione togliamo il fogliettino ok riprende la prima come cover dietro e poi questo il cofanetto all'interno c'è sempre il mare fantasia estrema le capitaine le capitane ma quando vai a disney benvenuti alle collo capitane ma i quattro dischi il bonus dvd e qui un altro librettino con i mille segreti delle riprese però ragazzi è tutto in tedesco meno male meno male che ci sono i sottotitoli in inglese meno male così me la posso vedere lo so non è in italiano ma almeno sento il feeling tedesco e l'audio dolby atmos che questo ci va alla grande con da sbot che questa come dicevo prima è ambientata la storia le varie storie che si intrecciano tra spie internazionali e il sottomarino tedesco è ambientata ma come due cacchio è la cover scusa dove è andata la cover ok mi sono perso era da mettere qua è ambientata un anno dopo il finale del film di da sbot è comunque un sequel non so come sia legato a questo qua magari ci sarà qualche riferimento però qui la storia alla fine finisce quindi va bene comunque ecco qui unboxing proveniente dalla profondità dell'oceano da sbot non c'è italiano ragazzi però o così o niente mi perderò qualche paroline inglese sicuramente non lo so perfettamente non sono madrelingua ma dai un 80 per cento me lo riesco a godere quindi e se non so qualcosina mi vado a leggere cosa mi son perso della traduzione tutto che sti tedeschi mettessero gli adesivi cioè che brutto che stampato così che brutto sto cacchio di età bruttissima ok ragazzi chiudiamola qui il video dura già abbastanza per un unboxing vi metto il link qua sotto nel canale telegram ci sono i link quindi noi ci rivediamo nel prossimo episodio di into the 4k unboxing recensione chi lo sa sayonara a tutti e bye bye ciao 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 ciao